Walter Simonato, titolare dell'azienda Europoint, abbiamo portato a ProLight & Sound i pacchi modulari in alluminio, i nostri elevatori telescopici elettrici che sono il prodotto di punta, è un nostro brevetto, siamo molto contenti del mercato estero, abbiamo le torri elevatrici in alluminio, è un nostro prodotto di nicchia, è anche un sistema semplice per poterci lavorare senza mettere troppa fatica e stress di lavoro. Abbiamo i pacchi modulari in alluminio sempre che sono dei nostri fiori all'occhiello e il nostro pacco modulare si può trasformare in tribuna, in gradinata, perciò uno fa un acquisto mirato per poter lavorare in più situazioni e avere dei buoni rapporti con il pubblico.